iniziamo l'avventura iniziamo sempre la salita un po' di legna su dove devi andare? io non ci vanno tutta la cattoglione poi non so come se non ti fanno tutta la cattoglione minchia siamo quasi arrivati ma chi sarà? un po' di portage arrivati alla fine per adesso guardate che meraviglia un po' di legna 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 è un peccato veramente un po' di legna 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 che città è questa? asfaltare un po' di legna Arbus questo è Arbus è bene i coccuzioni qui c'è le pietre è bene questo qui o? un po' di legna 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 scusa di essere in stazione con 3 e un po' di legna 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 vai la vassa dove sta picco per le case di legna questa è saccora allora questa l'abbiamo fatta anche in questo senso sì sì l'anno scorso siamo saliti da lì siamo saliti da lì ah giusto guardate guardate Sì 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 No, no, vado a conto, no, lo faccio anche io, la fonda. Grazie a tutti. Ah, bello, la bagazza, tiga. 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 Ah, bello, la bagazza, tiga.